Alessio Maria Federici Bene, bene Però tu dovevi venire con un compagno di avventura? Sì, dobbiamo collegare con io E ci colleghiamo? Con Tony Morgan Ah, infatti mi chiedevo, ma dov'è Tony Morgan? Che di solito lo porto sempre dietro Ci volevo Tony Morgan Ci colleghiamo con Tony Morgan Vediamo Tony Morgan Ce l'abbiamo Tony? Tony? È scollegato Ciao, sono Tony Morgan Stiamo lavorando su film Bacio Un film scritto con Roberto Annone Un film importante Ma io sono un personaggio dagli anni 70 Ho fatto tantissimi film Ma soprattutto quegli anni ho fatto molta televisione Ho scritto tantissimi libri E abbiamo affrontato il mondo del bullismo Invece il papà della Missio Sono il papà ambizioso Ho questa figlia che deve sfondare il mondo del pettacolo Invece me la riporto a casa 8 euro ha vinto tutto Come vivo un pensionato con 8 euro a giorno Il secondo è il solo Il coraggio di non farlo L'ultimo film è la mia scelta Il più importante è diventare senatore Oppure saluto a Marco Giusti Saluto a Bicio Anche ad Andrea Un salutone a Nino Frassica So che è in studio Vi verrò a trovare in studio Insieme con Roberta Ciao 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 Grazie.